A Giulianova ha aperto ufficialmente il cantiere degli immobili Ater di via Brodolini, problemannoso in quella determinata zona del quartiere annunziata dove era stato riscontrato l'inagibilità dei balconi, progetto che prevederà il ripristino dei calcestruzzi ammalorati e dei 184 balconi. Oltre a questo interventi per quanto riguarda il rivestimento dei borticati. Cronoprogramma che sarà di circa 180 giorni per un importo complessivo di 280 mila euro. Finalmente si pone rimedio a una problematica che le precedenti amministrazioni comunali avevano trascurato, noi invece abbiamo una fitta sinergia con gli enti sovracomunali, quindi siamo riusciti in appena sei mesi a stanziare dei fondi con l'Ater e con la regione Abruzzo per intervenire su delle problematiche che, ripeto, ci trascinavamo dietro da tanto tempo. Questo è merito della buona politica e del funzionamento delle relazioni tra comuni e enti sovracomunali. Ecco, ovviamente è cronoprogramma che si aggira all'incirca sui 180 giorni per un importo importante, possiamo dire. Sì, sono 180 giorni di lavori, anche qui sono molto celeri, quindi riusciremo a dare delle risposte, penso e spero, in questi 180 giorni, ma sono sicuro perché la ditta ieri è venuta insieme a noi in cantiere e ci tiene a fare bella figura qui a Giulianova. Quindi tutto sommato, ripeto, c'è da ringraziare sia l'Ater che, ovviamente tutto, ha espletato la gara nel mese di agosto e quindi comprendete bene che lo sforzo da parte anche della Presidente Ceci e di tutto il Consiglio di Amministrazione che ringrazio è sicuramente fattivo nell'interesse delle tante persone che vivono all'interno di quelle strutture.